Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi facciamo il setup di Last Aurora con anche l'espansione. Quindi questo è il gioco base e vedrete anche delle cose aggiuntive. Si trova ancora l'espansione quindi io se fossi in voi la comprerei perché è molto bello il gioco con l'espansione. Dopo vedrete. Allora, la barzetta di oggi è questa. Ci sono due amici che si incontrano a stazione, devono prendere ognuno un treno. Allora si incontrano lì al bar e dice allora, il primo dice allora come va? Oh sì tutto bene a parte un inconveniente. E l'altro dice dai dimmi cosa cosa è successo? E il primo dice purtroppo ho perso il treno. E allora il secondo dice ma come mai hai perso il treno? Eh perché sono venuto qua al bar a prendere un espresso. Seconda battuta è tipo stile cartone animato di Nemo. Allora c'è uno squalo e un delfino che devono fare una gara. Chi arriva primo devono fare l'andata, giro di boe e ritorno. La tapparuga è il giudice di gara. Allora il delfino e il squalo partono. Lo squalo è velocissimo, il delfino pure, però lo squalo è un po' eh e quindi usa qualche trucchetto, è un po' insomma usa metodi non convenzionali, dalle spinte lo butta fuori dalla scia. Quindi arriva il giro di boe, tornano e lo squalo ancora insomma non fa manovre non belle. E allora quando tagli il traguardo lo squalo è primo. Allora è tutto contento però tanto lui dice guarda che non ci siamo. Allora lo squalo dice ma in che senso? Tu sei uno squalo, hai usato manovre non convenzionali, non va bene, la gara è stata eh e quindi essendo squalo sei stato squalificato. Bene andiamo a vedere il gioco. Il setup di Last Aurora comincia così. Intanto si sceglie la plancia percorso da utilizzare. Questa qui è la plancia alfa, c'è scritto qua. Sul retro c'è quell'altra che avete visto nel video dell'unboxing. Allora bisogna mescolare fra loro le dieci tessere alfa che sono queste e vanno messe in questi spazi dove c'è il quadretto bianco. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci e noi le mettiamo a caso girate a faccia in su. Qui ci sono dei proiettili, cibo, nucleare, nucleare, tannica di benzina, sorpresa, nucleare, 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 sorpresa. Benissimo. Come vedete sulla plancia qui c'è una piccola scorciatoia per saltare nucleare, qui c'è una piccola scorciatoia per saltare questo nucleare e qui c'è una piccola scorciatoia per saltare questo dove non c'è niente. Poi collochiamo la nave, qui la nave questa è del pack aggiuntivo che è questo qui. La nave sul numero uno. La nave dovrà fare questi sei, questo percorso di sei step e poi lascia la baia. Poi mescolare le carte esito e le mettiamo a faccia in giù accanto alla plancia di gioco. Eccole là e le mettiamo lì. Poi dobbiamo costruire il mazzo esplorazione che è questo qua, questo grosso qui dove c'è uno, fase uno, fase due e fase tre. Eccole qui. Questo è il mazzo esplorazione. Allora adesso dividiamo il mazzo in tre a seconda del periodo che c'è scritto sul retro della carta, uno, due o tre. Nel mazzo uno troverete sia carte normali sia carte con in basso a sinistra un più giallo. Queste vanno prese tutte da parte e se state usando il gioco base usate queste nove, se state usando l'espansione usate queste nove con il blu e quindi queste gialle le mettete nella scatola. Stessa cosa fate nel due, stessa cosa nel tre. Cosa succede di queste carte? Di queste nove carte, allora se siete in due ne pescate quattro a caso e le altre le mettete via, se siete in tre ne pescate sei, se siete in quattro a giocare le usate tutte nove. Quindi se siamo in quattro tutte queste nove le mettiamo qui dentro. Stessa cosa qui, se siamo in quattro tutte queste col più giallo le mettiamo qui dentro. Stessa cosa qui, l'importante usate o le gialle o le blu per fare questa selezione a seconda se usate il gioco base o l'espansione. Mettete i mazzi uno sopra l'altro, uno dei tre e questo è il nostro mazzo di esplorazione. Le carte bottino vanno separate in questo modo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Non guardate queste blu perché sono quelle dell'espansione, anche loro divise in uno, due, tre, quattro e cinque, sei. Sono sei carte. Le carte esito vanno sistemate qua e sono dodici. Non guardate queste perché sono quelle dell'espansione. Mescolate le quattordici carte oggetto e mettetele là. Non guardate qui perché sono molte di più, perché ce ne sono dodici aggiuntive dell'espansione. Le riserve le mettete qui sopra, cibro, proiettili, tannica di benzina, cubetti, nucleare, colpito e omini. Poi prendere dal mazzo di partenza S le due carte container arrugginiti e metterle nella sezione 1 e 2 e poi pescare tre carte dal mazzo di esplorazione. Io ad esempio ho pescato queste tre e subito metto i miei token 3D nella carta delle macerie perché è un luogo. Adesso scegliamo un colore. Io ho scelto il verde e come vedete delle quattro carte di verdi ne ho preso solo due e vanno messe qua nella zona attiva. Perché due? Perché in questa motrice dove ho preso appunto le carte, questa motrice, questo container nelle carte verdi, nella motrice ci vanno due mini. Due mini qua e due sono qua. Poi si mettono i segnali di bersaglio verdi qui, la stellina sullo 0, stellina qui, 1, 2, 3, adesso è sullo 0. Questo vediamo dopo. Nel container mettiamo questi tre oggetti, cibo, proiettili e la tannica di benzina e siamo in posto. Questo era in più giusto per far vedere un'altra cosa. Questo segnalino indicherà l'ordine di turno, se è qui o qua o qui o qua, a seconda di quanti siete i giocatori. Se siete in quattro qui c'è magari verde, rosso, giallo e il blu. Allora, finisce il setup mettendo i due omini che abbiamo, perché abbiamo due carte, e abbiamo in queste posizioni. Allora, uno è obbligatorio metterlo qui, perché questa casella può contenere solo omini, quindi questo è obbligatorio metterlo qua. L'altro avete cinque caselle vuote, quindi potete metterlo dove vi pare. E quindi noi lo mettiamo ad esempio qua. Possiamo mettere dove vogliamo. Allora, lì abbiamo le due carte iniziali, qui come sapete ne gireremo altre tre, ne gireremo. E visto che qui c'è l'espansione, possiamo usare o questa coppia di eroi, diciamo, che sono i vostri eroi, che sono 3 e 1 il valore, oppure possiamo usare la coppia che c'è appunto nell'espansione, che è questa coppia qui, il mutante alfa e il gaul, per quanto riguarda il verde. Allora, nel gioco base questi qua sono uguali per tutti, questi personaggi, cioè il leader e il copilota, sono uguali per tutti e 4 i giocatori, mentre nell'espansione, nella scatola, ci sono 4 coppie diverse, quindi questi due giocatori sono solo per il verde, poi ci saranno altri due giocatori per il rosso, due per il blu e due per il giallo, sono tutti diversi. Poi ci sono queste carte che metteremo di fianco al mazzo 1, 2 e 3, anche queste sono 1, 2 e 3, come vedete. E quando si usano queste? Quando succede questo? Bene, direi che il setup si mettono ovviamente le due macchinine qua, le quattro macchinine si mettono qua, alla partenza. Questa io ho aperto la mappa beta, che come sapete bisogna mettere le carte o gialle con l'angolino giallo o l'angolino blu, a seconda di in quanti siete a giocare. La mappa beta è un po' diversa, ci sono, il giro è un pochino diverso, diciamo che ci sono le valanghe, quindi si può passare di qua, se si passa la valanga si viene curati e la valanga, diciamo, seppellisce questo punto di cura. C'è un'altra valanga qui, anche qui c'è un punto di cura, quando uno passa di qua la valanga cade e quindi il punto di cura ce l'ha solo il primo giocatore. Qua stessa cosa, però diciamo ci sono due colpi, quando uno passa di qua, che è il tragitto un po' più corto, prende due colpi e la valanga cade, quindi gli altri giocatori dovranno fare il giro diverso. Di diverso c'è che le scorciatoie diventano due, quindi ad esempio questo è il percorso originale, se uno ha i cingoli passa di qua, se uno invece vuole passare di qua si becca due nucleare e passa di qua, quindi taglia anche i cingoli. Ecco, il setup è finito. Il setup è finito. Eccoci qui alla fine del video, come avete visto c'è un video sull'unboxing del gioco, c'è questo video che è il setup, ce ne sarà un altro con le regole di gioco. Il setup questo appunto, avete visto, è con l'espansione. Vi lascio con la battuta del giorno che è questa, perché i mostri amano le vacanze culturali. Amano le vacanze culturali perché vanno a vedere le mostre. Ultima battuta e poi ci salutiamo, il sugo di pomodoro, il pomodoro litigano, dopo aver litigato fanno pace e dicono dai dai dai, non un saluto da Mario, ci vediamo al prossimo video, sapete che la campanella è per gli aggiornamenti, l'iscrizione al canale è a 0 euro, non costa niente e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao, alla prossima!